Il progetto da 1.800.000 euro da finanziare con un mutuo per realizzare i capannoni da utilizzare per il Carnevale di Sciacca è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche che la Giunta si appresta ad approvare questa settimana. Lo ha annunciato nel corso della registrazione della nuova puntata della trasmissione l'ospite e l'assessore al bilancio Fabio Leonte. Purtroppo sarà necessario ricorrere all'imposta di soggiorno per far fronte alle rate del mutuo almeno per due anni e l'assessore Leonte a spiegare perché si è dovuto optare per questa soluzione. Purtroppo la Regione Sicilia deve fare quadrare i propri conti di bilancio e ha deciso di ridurre il fondo investimenti per il 2025 e per il 2026 di 110 milioni di euro portandolo da 145 a 35 milioni di euro. Per il comune di Sciacca significa 570 mila euro in meno. Queste somme venivano utilizzate per pagare le rate dei mutui. Siccome nel piano triennale noi avevamo individuato due opere che sono manutenzione delle strade e i capannoni del Carnevale per un importo complessivo di 2 milioni e 300 mila euro, queste somme non ci ritroveremmo nel 2023 e nel 2024, avremo difficoltà a pagare queste rate. Si sta pensando ad una soluzione alternativa ma questo ci ha impedito di approvare il piano triennale la settimana scorsa. Penso che lo approveremo in questa settimana avendo pensato ad una soluzione diversa da quella di utilizzare. Quale può essere la soluzione? I capannoni erano, ricordo, un preciso impegno. L'anno scorso si disse privilegiamo per il momento lo stadio alternativo ma il prossimo anno ci saranno i capannoni. Abbiamo messo 1 milione e 800 mila euro per i capannoni. Pensiamo di finanziarli con l'imposta di soggiorno per il 2025 e il 2026. Nella speranza, e già c'è qualche cosa... Interamente con l'imposta di soggiorno? 150 mila euro circa. C'è la speranza che la regione riveda questa posizione perché il danno è grosso, l'ammanco è grosso e quindi il riporti ridia questo fondo investimento e quindi noi faremmo una modifica nel senso di passare queste somme sul fondo investimento piuttosto sull'imposta di soggiorno. Però l'ipotesi B, che è quella dell'imposta di soggiorno, noi pensiamo di perseguirla. Imposta di soggiorno il cui utilizzo genera da sempre polemiche e considerato che i provenchi dovrebbero essere destinati ai servizi al turista. Così l'assessore Leonte. Mi pare che il carnevale c'entri con il turismo, del resto è l'imposta di soggiorno che finanzia le spese del carnevale, di già. Quindi questo sarebbe un ulteriore appesantimento come carnevale, però... Ma vabbè, si cercherà di ridurre qualche cosa e di aumentare questa, ripeto, soltanto per due anni. Quindi è una cosa fattibile, che certamente dovrà essere sottoposta al vaglio del dirigente di ragioneria, che se non ci sono problemi la farà passare.